Parliamo delle bambine del futuro e di come si possono approcciare a questo sogno che poi può diventare una professione. Io credo che sia bello avere proprio il sogno per arrivare a un obiettivo. E questo si vede tanto nella mia personalità da bambina, la determinazione che avevo. Ero già una grande, facevo tutto da sola, me ne sono andata a 11 anni, però è stato difficile. Sia da piccola, che ho dovuto lasciare la mia famiglia, numerosa tra l'altro, sia poi quando sono arrivata da Unica Italiana a Parigi. Ho sofferto molto la solitudine, ma poi alla fine tutto quello che mi dava il grande teatro, la vera danza, riuscivo a tenere duro. Come si diventa un etuale e come un etuale dice addio? Ma si diventa etuale perseverando perché si vede, e lo racconto, che non è stato facile. Perché ho aspettato, però poi tutto arriva perché me lo meritavo anche dopo tanti momenti difficili. Sicuramente l'addio è uno dei giorni più belli perché lo aspetti, però anche molto particolare perché senti tutti che sono lì per te per l'ultima volta. Che esperienza è vedere l'arte della danza secondo il linguaggio cinematografico? Ma oggi ce ne sono tanti film dedicati alla danza, documentari, quindi raccontare soprattutto il mondo che è piccolo, quello della danza. Quindi raccontarlo in maniera diversa facendo arrivare al pubblico anche il sacrificio che c'è dietro.